Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Brawl Stars Arriviamo a 1000 like, condividete il video, schietate al canale di essere nuovi Lascia l'hashtag Brawl Stars con sotto i momenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Sono entrato sul gioco, mi stavo facendo le mie belle missioni E mi sono visto apparire questa la cacciatrice scadi Ritira l'offerta per sbloccare premi gratuiti Tanta tanta roba per soltanto 199 gemme Ne abbiamo 383, per niente, sciopate stanno lì da una vita E chissà quando l'abbiamo fatte Quindi a questo punto sinceramente non è un costo elevato Non sono soldi, quindi direi che forse è il modo migliore per andare a utilizzare le gemme Perché la cacciatrice scadi, a parte averci lei che è tanto bella Che ovviamente ha sia la pin, ha sia la reazione, ha sia il graffito che l'icona Abbiamo anche roba gratuita carina Monetine, punti energia, monete, una 5 premi star Quindi tanta roba Gratuito lo stesso, monete Pila di monete Gratuito esperienza per 2000 E gratuito leggendario Quindi, quindi io direi che oggi facciamo questa bellissima apertura della skin E poi casomai andiamo a farci qualche bella partitozza Partitozza Vai, mi impiccio ragazzi, sto male Ecco la skin che arriva Tanta bella roba Stupenda questa skin, mi piace veramente tanto Poi cambia proprio tutto l'aspetto del personaggio Le leggende del nord Vai così Sbloccata icona Jesse sbloccato Tutto E abbiamo ovviamente da andare a prenderci il primo premio gratuito Tanto bello Gratuiti punti energia Tanta roba Fantastico Ovviamente Ma come? Guarda Ma mi stai prendendo in giro Ragazzi questa è un'offerta speciale Non è gratuita Questa è cattiveria però Ai 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 Ci hanno fregato Per sbloccare i prossimi premi dobbiamo usare altre gemme Va bene Lo facciamo Visto che ci siamo Ce l'abbiamo Usiamole al meglio Vai così Cinque premi star Per noi da andare ad aprire Vai così ragazzi Per quelli che sono da tiktok Cinque premi star Gratuiti Davanti a noi Apriamoceli Tanta robina Ok Raro E già cominciamo male Raro Vi ha un po' il secondo Epico Tanta roba Vabbè Ambra Raro di nuovo Vabbè Diciamo che ci piace Ma poteva andare meglio Super raro Ok Che ci dai Monedine L'ultimo Vediamo un po' che ci da Monedine Tristezza Andiamo avanti Gratuito Monedine Altri 49 gemme E là da spende Già vi vedo Mannaggia Abbiamo va Ok Come abbiamo speso Tutte le nostre bellissime gemme Ragazzi A bestia proprio Monete XP Gratuito Per 2000 Gratuito Nostro Ok E poi per i ragazzi Nello short E per i ragazzi Appunto Di tiktok Andiamo ad aprirci Questo Leggendario Gratuito Vediamo cosa ci esce Vai Tanta roba L'apertura Leggendaria Ci piace Skin nuova Di Zombibbi Nuova skin Non c'avevo la zombibbi Io Ma com'è possibile Pazzia Vabbè Abbiamo sbloccato la zombibbi Una skin nuova Da leggendario Poteva andarci Molto meglio Ma comunque Abbiamo in pratica Preso un'offerta Che ne vale la pena Perché tanto i soldini Non ci mancano E mettiamo Altra robina a pizzo Vai Direi che andiamo a provarci Direttamente La skin Della bellissima Shelly In gioco Allora Sto facendo Mega salvadanaio Ragazzi Non sono sicuro Assolutamente Di vincere Assolutamente Stiamo con la skin Questa qua nuova Stupenda Vediamo Poi riusciamo a inventarci Ci proviamo Oh Nemici che possono essere Infastidili parecchio Ale Ci piace Rimbalzini Tattici Uh Ho fatto una kill Forse pure due Me sa Ok Aha Aha E quindi Che vuoi fa? Oh Mazza Che cattiveria Come prima partita Mega salvadanaio A palla Comunque c'è uno Totalmente Fk Dei nostri poi Bonnaggia Non è partita la triple Però potrebbe farcela Da solo Questo qua Dai 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 che ce la facciamo È tornato il nostro compagno Di squadra Portata già a casa Bene Una bella footbrawl Sempre del mega salvadanaio Veramente Sbagliata Perché questa mappa Non è adatta Lei È assoluto 100-100 Però Loro Non è soltanto Migliori Il problema È solo L'Edgar E il Dynamike Che ci fa esplodere Il mondo Senza che noi Riusciamo a colpirlo In pratica Perché ci stanno Troppe mura In questa mappa Ci sto provando A dargli del fastidio Ma Non riesco a colpirlo Ok Oh Che bombona Dall'altro lato Volevi dire a me Mai lisciato Fortunatamente Eh sì però Temme via Quello Sono morto Ma Io devo sperare Che il No Mannaggia Che il Dynamike Tirava più colpi E rompeva più mura Quello mi sarebbe interessato Ammazza la Shelly Complimenti Ma sai che questo è un gol Questo è un nostro gol Vai Valla affari Ti prego Portaci a casa Sto di situazione Che belle le cotelle Che dindolano Aia Eh niente Ci ho provato Assolutamente nulla Guarda Eh il Dynamike Lo si può divertire qua Olè Oh Povero Ed Che è sempre Oh No aiuto Madonna Che liscio Eh questo C'è mancato un pelo Ok Quelli li ho colpiti Però Il Dynamike Mi preoccupa Infatti è quello che ha fatto Eh sì Teghiamo un po' Aiuto Cerchiamo di dare Una bella scossa Alla davanti Concisione è andata Peccato che il Dynamike è stato talmente bravo da non rompere le sue mura Ok Vediamo un po' se riusciamo A gestire sta situation Eh la vedo Oh Eccolo È arrivato Eliminalo bravo Shelly Facci sognare Ok Quello lo prendo No non lo prendo Assolutamente E Preso La torretta l'ho tirata I colpetti te li prendi Dai Così non recuperi vita Oh Che bel gol la Shelly Con distruzione muro Perfetto Ci sta Anche perché non manca tanto alla fine Quindi Preso No non è vero Grazie Hai rotto un altro muro A nostro favore Anzi a mio favore Poserei dire Ok I rimbalzini ci sono Eh ho capito Ma corre troppo Perché c'ha il gadget Con la corsa È un problema quello Ah nulla Mi sa che in gollo Riescono a farcelo Vediamo un po' Sembra di no Per ora E quel Dynamike è bravo Comunque Posso dirlo ragazzi Quel Dynamike È veramente Brevo Cerco pure De colpi questo Vai che arriva Il rimbalzo su quell'altro Perfetto Vai Uh La torre Si è potenziata Ma non basta Ma mamma mia Che cuore Vai Prendite qualche colpetto De torre Non lo stappiato Comunque Ma do Ce l'abbiamo fatta 1 a 0 Non ci credo Una bella dominio Che fai Te ne privi Da me che ha salvato Una io con la Jessie Vediamo un po' Vedo anche un Gix Gabrix Lo saluto Se è qua sotto Nei commenti Chi lo sa Potrebbe avvenire Questa cosa E E Quanti rimbalzini E Guarda che bellezza Come si eliminano subito Gli avversari Ok Questa cosa ci piace Io farei così Così appena passano Nell'area Si prendono tante De quelle Cinquines Ok Per ora Stiamo messi Molto bene Perfetto Oh E mo E mo che famo Niente Si sono arresi Già quelli Da là Ma noi siamo A Giocan 2 Ah eccolo Gabrix Non vedevo Gabrix Da un po' Mi ero preoccupato Tipo Ok Da un po' Aia Mi hanno tolto La torretta Che copriva Che peccato Vai Ti stai buttando Sulla torretta Così a secco Va bene Va benissimo Io sono contento Ormai si sono messi là Hanno padroneggiato Tutto Il Gix E sud Oh Niente Sta Shelly Si butta a capofitto Moen Mi sa che questo Ce la portiamo a casa Molto facilmente Taglia Si è buttato su di me E sono pure sopravvissuto Non so come è successo La Shelly Sembra un bot Portata a casa E niente ragazzi Questa è la stupenda Skin Di Jesse Scadi Sorvegliante Che c'ha pure La torretta In pratica diventa Una sorta De Volpe Veramente Bella Ovviamente E' costata Diverse gemmine E abbiamo preso Tutti i suoi bonus Aveva aperto pure La leggendaria Che ci ha dato un'altra La skin Della Bibi Se non mi ricordo male Arriviamo a mille like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se noi Lasciate il hashtag Jesse Scadi Con sotto i momenti Per ricevere un codicino E se la vede E ci vediamo nel prossimo video Che c'ha